La denuncia del consigliere comunale Massimiliano Pignoli che in sostanza chiarisce come stiano arrivando a migliaia di pescaresi raccomandate con ingiunzioni di pagamento da parte dell'ACA per una bolletta, quella di febbraio, che sembrerebbe non essere arrivata agli utenti, non morosi dunque per loro volontà. Oggi Pignoli insieme all'avvocato di Monte si prepara al da farsi. C'è da dire scandalo ACA, stanno arrivando a migliaia di pescaresi praticamente una bolletta di acqua che l'ACA non ha mai inviato perché le persone hanno controllato, soprattutto gli anziani che sono molto meticolosi, con data di emissione 20 febbraio 2023 con scadenza 6-4-2023. E quindi l'ACA, oltre il danno alla beffa, quindi manda un'ingiunzione di pagamento come se queste persone fossero morose, quando l'ACA non ha mai inviato questa bollettazione. E c'è però un risvolto, cioè se in 15 giorni non viene pagata la bolletta cosa accade? C'è qui, è molto esplicito, cioè o la riduzione dell'acqua o addirittura la sospensione completa dell'acqua di persone ignare per bene che pagano continuamente l'acqua e sono cittadini onesti. E poi dovete considerare che ogni bolletta arriva ovviamente con raccomandata, con ricevuto di ritorno. Sapete quanto costa una raccomandata? E voi pensate che l'ACA ovviamente paghi di persona il dipendente o il presidente o il direttore paghi di persone raccomandate? No, le pagano sempre i contribuenti, quindi peggioriamo ovviamente un interesse dell'ACA stesso a pagare queste cose. E poi mi chiedo, chi è in vacanza e che è arrivata la raccomandata? Perché, beati loro, si possono permettere una vacanza lunga di un mese, un mese e mezzo, e la raccomandata è in gecenza là. Quando torneranno, che torneranno? Vedranno ovviamente il contatore staccato. Insomma, io questo non lo posso permettere. Dunque, che fare? L'avvocato di Monte. Quello che si potrebbe fare, io procederei in tre passaggi. Primo, chiamare i dirigenti dell'ACA per chiedere di tornare sui loro passi, per capire un attimino se questa bolletta è corretta oppure meno. Perché molti cittadini si sono visti recapitare questa bolletta che risale al febbraio, la sto vedendo ora, al febbraio del 2023. In questa raccomandata è prevista anche la sospensione dell'erogazione dell'acqua. Quindi, come diceva prima il consigliere Pignoli, c'è il rischio che molti che siano in vacanza non la prendano e tornino dalle vacanze e si vedano sospendere l'acqua. Prima di fare una class action prosegue l'avvocato. Io farei prima comunque una diffida all'ACA Bonaria per chiedere spiegazione riguardo a questa bolletta. Dopo potremmo procedere a un'azione inibitoria collettiva. Significa che ciascun cittadino con le nuove norme può chiedere ad un'impresa o ad un ente di cessare un comportamento commercialmente scorretto. Questa è l'azione inibitoria collettiva.